Vigila della gara Cremonese-Pisa, siamo con il tecnico del Pisa Filippo Inzaghi per rispondere alle domande che ci sono arrivate dai colleghi della stampa. Sì, domani è una partita che qualunque giocatore vorrebbe giocare, ci apprestiamo a farla con una classifica incredibile, con una grande motivazione, con grande fiducia, speriamo di fare una grande gara, ci saranno tanti i nostri tifosi e speriamo di continuare su questa strada intrapresa dalla prima giornata che è una strada che ci sta comunque facendo divertire. Ma noi non dobbiamo pensare agli altri, nel senso che sono state due partite diverse, Frosinone e Catanzaro, per cui Cremonese sappiamo tutti il potenziale, la squadra che è, anzi per noi deve essere un motivo di grande orgoglio essere lì davanti con sei punti in più. Se l'abbiamo fatto è perché ce lo siamo meritati, perché l'abbiamo dimostrato partita dopo partita. È chiaro che è una gara importantissima contro la favorita, una delle favorite alla Serie A, per cui noi dobbiamo andarcela a giocare a testa alta facendo una grande partita. È chiaro che per vincere a Cremona ci vorrà un Pisa perfetto, ma insomma i miei giocatori hanno abituato tante volte a fare grandi partite. Ma penso che aver cambiato sette giocatori e domani comunque cambieremo ancora, penso che sia il nostro grande vanto, il nostro grande forza. Insomma poche squadre possono a questo punto del campionato aver fatto giocare tutti i giocatori, ma con un buon minutaggio. Per cui siamo molto contenti, nelle due partite solo Bonfanti e Zanna hanno avuto meno minutaggio, ma Bonfanti ce l'aveva avuto prima, aveva fatto molto bene. E arriverà di nuovo il suo momento, dietro insomma i miei giocatori stanno facendo bene, per cui non è facile sempre cambiare. Perché con il rigardo a Tramoni, Tramoni è recuperato, adesso bisognerà solo capire se porterà a partire dall'inizio o entrare a una mezz'oretta. Insomma vediamo, ci abbiamo ancora domani mattina per decidere.